Stiamo cercando, io e lui, un medico speciale che possa guarire la figlia del nostro padrone affetta da una terribile malattia. Lo troverete là, nel bosco, che ti diverte a fare le fascine di legna. Ma il dottore taglia legna! E' proprio lui? Cagato e sputato! Ma io non sono un dottore! Voi non siete un medico, voi l'avete voluto voi! Basta! Sono medico, sono farmacista e anche chimico! La miglior medicina che si possa somministrare a vostra figlia è un palpezzo di marito! Eh, moglie! Pensa ad allattare il suo bambino e non far tanto la sabiettona! Per me non c'è che un rimedio, ovvero una presa di fuga purgativa in pillole accompagnata da 7 grammi di matrimonium! Per me non c'è che un rimedio, ovvero una presa di marito! Per me non c'è che un rimedio, ovvero una presa di marito! La corda e con mafra! E' un rimedio! Grazie.